Proprio in questo momento sentite la lettura della formazione a Maranto con gli olé degli sportivi dei supporters mentre alle ore 14.24 ancora non si vedono gli sportivi del Pisa, questo lascia un po' perplessi però molto probabilmente vorranno aspettare proprio l'inizio del match per far accomodare i supporters a Maranto questo per limitare i rischi di situazioni da gestire con attenzione quindi meglio così naturalmente una conferma del fatto che è stato tutto preparato al meglio da parte delle autorità competenti noi nel frattempo quando mancano 5 minuti alla partita, all'inizio della partita e mentre ci sono delle premiazioni in campo con Vitulano che viene premiato da alcuni supporter a Maranto molto probabilmente per il suo gol, il gol decisivo dell'ultimo derby Pisa-Livorno del 22 aprile 1979 per quel gol viene premiato in questo momento, un momento emozionante, toccante il saluto alla curva nord di Miguel Vitulano che è stato sicuramente una delle bandiere a Maranto più amati ed è commosso, abbraccia gli sportivi e i supporter la commozione di Miguel Vitulano nelle immagini di Granducato TV che regala emozioni e poi ancora Vitulano che sta andando verso la curva nord per ricevere l'abbraccio e il saluto di tutti gli sportivi a Maranto un momento che noi stiamo documentando e che rappresenta l'affetto degli sportivi livornesi per la maglia Maranto per quello che è stato il passato della maglia Maranto e naturalmente per quello che è il presente non ci sono ancora i tifosi nera-azzurri, la linea alla pubblicità nuovamente in diretta proprio nel momento in cui stanno arrivando i tifosi di Pisa la nostra telecamera dall'altro mostra il momento dell'arrivo al stadio dei supporters del Pisa mentre l'ardenza saltella compatta per accogliere i tifosi del Pisa che stanno entrando proprio in questo momento nello stadio Armando Picchi quindi arrivano anche gli sportivi merazzurri quando mancano circa 4 minuti all'inizio della partita e adesso comincia lo spettacolo nello spettacolo naturalmente in questo momento stanno entrando le squadre in campo ed è il momento delle coreografie è il momento delle coreografie, è il momento del spettacolo assoluto vedete le immagini dall'alto e vediamo di inquadrare la curva a Maranto eccola qua, questa è la prima coreografia preparata dagli sportivi livonesi con lo striscione fino alla vittoria e poi un gran sventolio di bandiere le squadre stanno entrando sul campo ma andiamo sugli spalti perché noi documentiamo il contorno questa è la curva nord del Livorno fumogeni dall'altra parte tifosi nerazzurri che sventolano le bandiere e tra poco inquadrata anche la curva sud perché lo spettacolo questa sera è veramente completo le squadre al centro del campo ricordiamo l'arbitro il signor Ferrarini di Parma con un romano guarda lì, guarda lì, ed è ancora il momento, il momento importante torniamo mentre le squadre si scaldano, torniamo di nuovo sugli spalti questa è la curva di Pisa questa è la curva di Pisa per i tifosi e ancora continuiamo a mostrare queste immagini che poi sono immagini storiche, naturalmente tutti noi hanno un po' di emozione nel commentare questo momento che è un momento storico e dobbiamo dire per chi segue questo sport è un momento da ricordare Cavallo il cross rinvia Carli c'è Lupo che ruba palla attenzione c'è Lupo sta correndo di gran carriera Bonaldi, palla per Bonaldi Bonaldi il tocco e Livorno passa il vantaggio Livorno il vantaggio e Ennio Bonaldi va sotto la curva come aveva sognato da scampo Ennio Bonaldi porta in vantaggio il Livorno gran gol, grande invenzione di Lupo e vedete in questo momento sotto la curva nord tutta la squadra amaranto Livorno in vantaggio adesso il Pisa deve concentrarsi, deve ricaricarsi e trovare la forza per rimastire le azioni necessarie per riparsi avanti Livorno in vantaggio al 32esimo minuto Ennio Bonaldi il Livornese docco ha portato in vantaggio gli amaranto Pisa già al centro Pisa che adesso dovrà spingere sull'acceleratore Ennio Bonaldi al 32esimo è stato anche ammonito c'è il replay in questo momento dalla regia centrale ed è il gol di Ennio Bonaldi riproposto dalla regia centrale calcio di punizione circa 7-8 metri fuori dall'area della porta difesa da Boccafogli vediamo che sulla palla c'è Geri Cavallo Paolo Andreotti arrivano anche dalle retrovie vediamo come il Pisa sfrutterà c'è Luca Relli, Massimo Andreotti e Paolo Andreotti la conclusione è la rete del Pisa il Pisa trova il gol del pareggio su punizione a tempo scaduto Boccafogli piazzato dalla parte opposta e il Pisa trova il gol del pareggio festa della curva sud in questo caso Livorno disattento rete di Andreotti Andreotti allo scadere risultato ristabilito 1-1 festa in curva sud in questo momento con i fumogeni silenzio nel resto dello stadio 1-1 riparte Livorno Carli Olivari e arriva il fischio finale del primo tempo Livorno 1-1 Pisa 1-1 le reti di Bonaldi e Paolo Andreotti la linea alla pubblicazione che Grazie.